ci siamo ciao ragazzi la diretta è partita questa è la prova tecnica vediamo se mi sentite se ho aperto il microfono se va tutto bene Enio è il primo a mandare l'ok grazie Enio mandatene altri così mi rendo conto che va bene per tutti grazie infinite Jacqueline del super sticker grazie grazie ed eccoci qua con tutti gli ok per cui possiamo partire allora devo andare a cercare la pagina giusta eccomi qua ciao bentornati sul canale youtube di associazione culturale Maggiolina ad una delle nostre dirette settimanali saluto subito Franco grazie infinite del sostegno del super sticker super sticker, super chat abbonamenti gli altri sistemi che utilizzate per sostenerci per noi sono di vitale importanza quindi grazie grazie infinite bene diretta del 2 febbraio 2022 2222 2222 ore 18 come sempre il mercoledì in diretta vediamo di che cosa parleremo questa sera beh innanzitutto dico subito che tra qualche istante anzi subito disegno una riga qui in chat eccola che arriva oltre questa riga alla fine del discorso che ci siamo fatti adesso andrò a leggere le domande che mi avete posto e risponderò a quelle domande qui in diretta alle domande che non farò un tempo di rispondere in diretta risponderò in registrata con un video registrato appositamente che esce di solito al sabato quindi sabato prossimo uscirà il video con le risposte alle domande che dovessero essere sfuggite per causa e tempo in questa in questa diretta ok sto guardando ancora se c'è tutto pronto e poi possiamo dedicarci al nostro discorso si sembra di sì e quindi andiamo avanti così vediamo la linea la qualità è buona ci siamo allora di che cosa parliamo e che cosa abbiamo fatto un po' questa settimana sino ad ora quindi questo è il nostro sito amici di Maggiolina dove teniamo il riepilogo di tutta la situazione i video degli ultimi 15 giorni l'ordine cronologico e alfabetico di tutti i corsi e quindi di tutti i video raggruppati corso per corso e quindi gli amici che ci sostengono compilino il modulo di richiesta tessera dal sito associazione Maggiolina amici perché poi così hanno accesso a questo sito gli amici di Maggiolina che secondo noi ci dà un aiuto importante allora questa settimana abbiamo visto abbiamo parlato di come usare gli account quindi account password queste cose qui che ci assillano spesso perché effettivamente è così grazie infinite Augusto per l'uso del super sticker grazie 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 poi abbiamo visto se lo smartphone ci ascolta e quindi come regolarci nel caso che cosa possiamo fare con il nostro telefono e oggi siamo qui a parlare di internet quindi il corso di computer 2022 quindi quello principianti di quest'anno è arrivato al punto in cui adesso navighiamo in internet e utilizziamo internet per cui oggi facciamo un po' un discorso per cercare di capire bene quello che andiamo a fare con cosa andiamo a farlo in modo da sapere poi regolarci in tutte le varie situazioni e sapere bene che cosa che cosa facciamo poi domani video abbonati domani giovedì usciranno ben due video abbonati quello di datilografia per gli amici irriducibili che stanno costantemente seguendo il corso di datilografia ormai dall'anno scorso bravi si può continuare si può cominciare anche oggi video ci sono tutti qui in alto dove c'è home c'è corso di datilografia e ci sono tutti i video ci andiamo così lo vediamo eccoli qua con tutte le lezioni a cui siamo arrivati quindi tutte le lezioni che abbiamo fatto finora la numero 38 siamo al livello 3 ci mancano ancora varie lettere per le nostre dita però ormai cominciamo a saper scrivere cominciamo a saper scrivere grazie infinito e Gaetano grazie 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 per l'uso della super chat e quindi bravi domani esce il video nuovo sapete che ormai metto su i vi metto su le esercitazioni e poi arrivo anch'io faccio le esercitazioni insieme a voi così la facciamo insieme ed eccomi qua in questo video arriva domani domani arriva anche questo video sulle password visto che in questa settimana abbiamo parlato di account di password di come sarebbe bene fare questo di come sarebbe bene scriversela di là eccetera in questo video mostro come fare un'idea su come fare e quindi qui prepariamo il posto dove andare a scrivere le nostre password e un po' alla volta teniamo l'elenco di queste password degli account dei vari siti eccetera per evitare la confusione che capita a tutti perché a tutti capita questa confusione questo ci dà una mano e quindi domani lo vediamo va bene siamo pronti per internet quindi andiamo a parlare di internet ormai lo sappiamo tutti gli amici in particolare che sono qui in chat usano internet da tempo sicuramente e quindi magari certe cose le hanno già sentite ma diciamocelo lo stesso mi piace non dare mai per scontato nulla soprattutto per quanto riguarda il mondo internet dove noi andiamo ci sediamo facciamo ma senza sapere bene con che cosa abbiamo a che fare allora internet ormai lo sapete una parola inglese inventata a questo scopo sta per rete sta a significare rete e qui ci immaginiamo io mi immagino le reti quelle delle recinzioni tutte grigliate non dico quelle dei pollai che magari fa un po' troppo campagna dove abito io però le reti di recinzione quindi la rete è questo reticolato qui in realtà è inteso come un insieme di computer collegati tra loro quindi tantissimi computer collegati tra loro nel mondo e se immaginiamo tutti i fili che li raggiungono più connessioni che li raggiungono danno danno una specie di reticolato quella è la rete quindi una rete a tutti gli effetti è i fili informatici è un insieme di computer collegati tra loro per cui nelle case negli uffici nelle grandi aziende medie e piccole insomma nelle aziende quando ci sono dei computer diciamo sulle varie scrivanie delle persone si mettono in rete si collegano tra loro con dei cavi perché così possono interscambiarsi informazioni quindi quella è una rete informatica internet è considerata la rete per eccellenza la rete con la R maiuscola perché è a livello mondiale quindi la rete più grande del mondo quindi nel mondo ci sono migliaia di computer collegati tra loro e quindi quello è internet per cui quando voi adesso siete qui che navigate in internet quando voi navigate in internet questo è possibile tramite i computer che voi state visualizzando quello che vi arriva adesso sul vostro computer vi è trasmesso da un altro computer da un server da uno dei tanti computer della rete quindi immaginatevi nel mondo tanti computer di nessuno o meglio di qualche azienda di varie aziende ma non di privati il video che vi arriva adesso questo in cui sto parlando non lo ricevete da me lo ricevete da internet adesso ragioniamo bene su questa cosa quindi in internet ci sono tanti computer che non sono dei singoli utenti sono aziende che li hanno presi messi lì li tengono accesi 24 ore su 24 e li connettono via cavo a tutti gli altri computer il via cavo alla fine molte volte è linea telefonica noi in Italia viaggiamo sulla linea telefonica poi ognuno di noi a casa propria in questo momento si collega a uno di quei computer là a uno dei tanti computer sparsi per il mondo diamogli un nome a quei tanti computer sparsi per il mondo si chiamano server quei computer speciali tra virgolette che stanno lì per farci usare internet si chiamano server e sono computer speciali diciamo perché hanno la capacità di rimanere accesi 24 ore su 24 sempre perché se si rompesse oggi in questo momento il server che trasmette la nostra diretta qui nessuno più vedrebbe niente perché quel computer sarebbe spento e quindi non ha la possibilità di trasmettere niente quindi quando noi andiamo in internet ci colleghiamo ognuno di noi a un server uno qualsiasi quello più vicino a casa nostra ce ne sono tanti quello più vicino a casa nostra nel mio caso dovrebbe essere a Brescia se non mi sbaglio e attraverso quello salto sui computer che hanno i contenuti che mi interessano perché questi server contengono i siti internet contengono le cose che io vedo su internet questo gli amici di Maggiolina non è sul mio computer è su un server del mondo internet io non so neppure su quale io lo metto là ma senza sapere fisicamente dov'è il computer che lo contiene quindi nel mondo potrebbe essere da qualsiasi parte nel mondo c'è un computer che contiene questa pagina che noi tutti possiamo possiamo vedere intanto saluto ma stasera ci vedo poco saluto Maria ciao Maria grazie grazie infinite per l'uso della super chat grazie grazie e poi anche Claudio bello bello il tuo messaggio Claudio grazie infinite per la super chat per noi sono importantissimi i vostri sostegni grazie infinite ragazzi passate dal sito associazione Maggiolina amici a compilare il modulo di richiesta tessera la prima volta così poi potete accedere al sito gli amici di Maggiolina bene quindi tornando a noi i server internet sono dei computer sempre accesi che contengono delle informazioni che qualcuno ci mette dentro chi realizza contenuti per internet chi realizza siti internet chi realizza video chi realizza blog chi scrive un commento su facebook o su qualche social vario aggiunge contenuti in questi server quindi tutte le volte che voi scrivete un commento a un mio video o che mettete un mi piace o che vi iscrivete al canale cogliete l'occasione per mettere un mi piace vedo che sono già tanti grazie mettiamone ancora se vi piace tutte le volte che voi interagite col mondo internet scrivete qualcosa in un server quel qualcosa nel momento in cui è sul server del mondo internet della rete internet è raggiungibile da chiunque è visibile a chiunque ovviamente se ha un commento pubblico eccetera perché io posso tenere sui server internet anche informazioni personali la famosa nuvola è sempre su internet è sui computer che ci sono in internet sui server che ci sono in internet solo che quella parte non è condivisibile a tutti la raggiungo e tutti possono raggiungerla ma per entrare per aprire la porticina del computer che contiene quelle informazioni ho bisogno di mettere il nome utente quindi il mio account e la password se li so entro e consulto le informazioni se non le so niente so che lì c'è un qualcosa ma non posso vederlo ciao Maria grazie infinite per l'uso del super sticker grazie 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 quindi capito questo concetto dobbiamo sapere che a volte internet non funziona caspita a volte non riesco a fare una cosa a volte non riesco ad accedere al sito dell'Inps prima si parlava del sito dell'Inps o a volte non va perché perché il computer dall'altra parte è in difficoltà capita rare volte perché l'organizzazione che tiene in piedi il tutto è seria ovviamente però capita rare volte che quel computer di là non funziona o è lento o ci sono milioni milioni di persone che vogliono tutte andare lì in quel momento lì e quindi lui è in difficoltà a rispondere e io non riesco a fare le cose e mi dico ma perché non va cosa devo fare cosa sbaglio a volte niente a volte è dall'altra parte che il computer non è pronto per problemi tecnici fisici del computer o per la linea telefonica e adesso arriviamo al discorso della linea telefonica quindi appurato che quello che vedo io quando sono in internet non è nel mio computer ma è sui computer della rete per andare a guardarci dentro io raggiungo i computer attraverso una linea telefonica quando i computer della rete sono qui nello stesso ambiente nell'ufficio nell'azienda questa li raggiungo con un cavo di rete con un cavo apposta ma se sono da un'altra parte d'Italia da un'altra parte del mondo li raggiungo con la linea telefonica quindi quando le linee sono intasate e quindi sono piene di richieste la velocità con cui vedo le informazioni rallenta perché i dati fluiscono lentamente attraverso la linea quindi per navigare in internet noi abbiamo il nostro computer e abbiamo anche una linea telefonica ci siamo dovuti munire di una connessione telefonica di un abbonamento internet di un abbonamento per navigare in internet perché se ho il telefono e basta e mi collego col computer non fa niente serve che uno dei server sparsi per il mondo di solito è il server della compagnia telefonica per questo io dico considerando dove abito probabilmente il mio server è a Brescia in base alla compagnia telefonica quindi il mio cavo telefonico raggiunge Brescia raggiunge un computer lì a Brescia della mia compagnia telefonica e quella siccome vede da dove arriva la chiamata sa se pago per avere l'abbonamento per poter accedere oppure no se pago mi fa accedere e io da lì e poi vado ovunque se non pago ovviamente non ho accesso non esisto per loro e quindi non posso navigare in internet per cui la prima cosa che ci permette di essere veloci che ci permette di fruire internet è la connessione telefonica perché attraverso la connessione che noi vediamo le cose quindi se la linea è buona tutto va bene se la linea non è buona è lenta è stretta il tubo che porta i dati è troppo stretto se fosse un tubo dell'acqua se annaffio il giardino con un tubo dell'acqua piccolino ci piego tutta la sera se invece uso una bella portata d'acqua faccio prima intanto saluto Bruno ciao Bruno grazie infinite per l'uso della super chat grazie grazie per cui tutti quanti ormai lo sapete che dovete lavorare sulla connessione telefonica via cavo telefono fisso o cellulare telefono diciamo rete mobile cellulare nello specifico io quando lavoro sul computer utilizzo il telefono via cavo quando trasmetto la diretta utilizzo il cellulare perché dove abito io il cavo che arriva non è abbastanza grande la linea non è abbastanza veloce per trasmettere i dati fluidi in alta qualità come si fa durante una diretta quindi per fortuna il cellulare prende bene ha più portata e quindi in quel frangente utilizzo il cellulare ma non uso sempre il cellulare perché ci sono i giga quindi abbiamo una quantità via cavo via telefono fisso quantità illimitata se hai l'abbonamento giusto ma ormai è così via cellulare quantità contata contano quanta acqua quanti gigabyte passano attraverso la linea per potermi fare andare in linea quindi non posso usarla sempre perché altrimenti non ne avrei abbastanza per lavorare per anche fare le dirette qualcuno dirà eh ma ci sono anche le linee diciamo telefoniche cellulari illimitate vero ma quella rubinetto chiuso illimitata ma poca acqua e quindi alla fine quella che beve il giardino è sempre quella però ci impiega dei mesi quindi non posso non posso utilizzarla e quindi insomma c'è tutta una serie di queste cose però quindi il computer dall'altra parte decide diciamo se darmi ascolto o no la sua capacità decide la velocità della sua risposta e anche la linea telefonica ok e quindi ci siamo per cui tutto quello che vedo in internet lo vedo perché qualcuno ce l'ha messo ok quindi quando noi navighiamo in internet e ci diciamo caspita ma perché questo bottone qui è bianco e non è e non è giallo oppure perché questo ha la freccina non potrebbero avere la freccina anche gli altri perché chi lo ha fatto ha pensato così quindi non dobbiamo darci la colpa a noi o dare la colpa a noi delle cose che potrebbero essere diverse oppure dire ma caspita ma come mai non mi trovo bene perché chi ha creato la cosa l'ha creata così e non sempre ciò che è stato creato è così per un errore a volte è voluto fatemi ringraziare Marcore stasera mi servono gli occhiali Marcore grazie della Super Chat grazie infinite e anche Alberto grazie infinite del allora Super Sticker Marcore e Super Chat Alberto differenza tra Super Chat e Super Sticker solo una cosa estetica il Super Sticker è anche un'immaginetta animata che può dire qualcosa nel caso di Marcore è un'immagine che sorride la Super Chat invece è un messaggio potrei scriverci qualcosa per metterlo in evidenza ok allora siamo arrivati al discorso della chat è tutto dicevamo quello che c'è su là eccetera ecco quello che stavo perdendo il filo mi capita delle volte che magari qualcuno mi scrive e mi dice guarda ma secondo me quella cosa lì si potrebbe migliorare tipo Facebook un esempio recente guarda ti mando delle idee perché secondo me Facebook potrebbe essere migliorato e sono d'accordo magari sono idee buone ma non pensiamo che sia così perché non ci sono arrivati anche loro a loro conviene così quindi quello che vedo in internet ha un perché quello che c'è dall'altra parte lo mette su per un perché quindi lo vedo e i contenuti sono tali perché conviene a qualcuno perché qualcuno li vuole così quindi non è che è una cosa diciamo sovrannaturale che quello è così e quindi è giusto è sempre vero è tutto ok eccetera no sono altre persone che mettono i contenuti e quindi dobbiamo entrare in questo ordine di idee allora saluto Franca ciao Franca grazie per l'uso della super chat e grazie anima blu per l'uso della super chat grazie grazie infinite ok per cui siamo pronti ma quando io sono qui ad esempio sono qui dico va bene al mio computer c'è internet intanto come faccio a sapere che nel mio computer c'è internet perché me lo dice allora qua alle mie spalle per cui mi devo spostare qui alle mie spalle il mio computer mi dice che c'è internet qua vicino all'orologio i computer con windows ci dicono che c'è internet questa specie di ventaglio questo quel ventaglio lì ci dice che c'è internet che il mio computer è raggiunto dalla rete internet quindi è connesso attraverso la linea telefonica a un server internet il ventaglio in particolare mi dice che la connessione dal mio computer alla linea telefonica alla presa a muro della linea telefonica è senza fili cosa vuol dire senza fili? vuol dire che nel mio caso la presa della linea telefonica è al piano terra al piano terra c'è una macchinigenio il router un affare che mi permette di far parlare il mio computer con internet quindi siccome il computer manda dei numeri ma non li sentiamo questi numeri la linea del telefono trasporta i suoni ma se il computer questi numeri non li fa suonare io non li sento e la linea telefonica neanche il router si collega col computer ed è in grado di far viaggiare attraverso la linea telefonica questi impulsi digitali questi suoni questi numeri sotto forma di suoni quindi il router la macchinetta che avete tutti quanti tutti quelli che hanno la connessione di casa serve a fare da connessione da traduttore è in grado di far parlare il computer con la linea telefonica e col computer che c'è dall'altra parte anche lui ha un router dall'altra parte i due si parlano quindi da qualche parte quello ce l'avete a volte la linea telefonica non funziona è lenta internet non va eccetera spegnetelo e riaccendetelo quello a fare perché stando acceso 24 ore al giorno per sempre a volte c'è qualcosa che non va quindi spegnerlo e dargli un attimo di reset aiuta a farlo funzionare meglio ciao Michele ciao grazie infinite per l'uso del super sticker grazie grazie infinite quindi questo ventaglio sta a significare che il router che c'è giù da me lo diciamo si collega al computer via onde radio perché tirare un filo dal piano terra al piano di sopra era troppo complicato il filo non c'era troppo complicato e quindi andiamo senza filo wifi wireless senza filo il ventaglio sta per il senza filo questo ventaglio vorrebbe stare a significare le onde radio che si propagano nella stanza nella casa in questo momento e il fatto che questo ventaglio sia tutto bello bianco sta a significare che il segnale è bello forte se invece magari ci fossero solo due lineette accese sta a significare che il segnale è scarso e quindi se internet va male è perché il segnale è scarso ok ma quando io premo qui sopra vabbè questo è windows 11 quando premo qui sopra vedo la linea io sono collegato col mio cellulare questo se premo qui vedo le altre vedo che ci sono altre connessioni internet poche una sola in questo momento in altri momenti ce ne sono di più sono quelle dei miei vicini e quindi io potrei collegarmi volendo a una connessione del mio vicino questa non so chi sia di quale mio vicino sia però ha una linea bella potente perché la rete è piena solo che questo lucchetto sta dicendo che è protetta da una password quindi io si potrei usare la linea del mio vicino e quindi navigare in internet a spese sue e a nome suo però c'è una password non posso farlo perché fisicamente non so la password perché c'è la password allora intanto perché la compagnia telefonica preferisce prendere i soldi da due utenti invece che solo da lui lui spenderebbe gli stessi soldi se io navigassi con la sua connessione non è che lui paga di più paga solo lui e quindi la compagnia telefonica dice ma è meglio se pagate tutti e due ognuno paga il suo così noi prendiamo il doppio dei soldi ok e quindi c'è una connessione internet ma soprattutto la password serve a tutelare diciamo l'identità del vicino non tanto perché io non riesco a sapere a sapere chi è ma quanto perché il comportamento che tengo io in internet quindi i siti che visito le cose che scrivo perché posso anche scrivere cose magari diciamo un modo di dirlo senza insomma cose sbagliate ecco diciamolo così senza allertare tutte quante le situazioni internet quindi posso scrivere cose che non vanno bene diciamo così e se le scrivo collegato attraverso la sua linea telefonica poi vanno a casa sua perché c'è un controllo di tutto quanto quindi il vostro provider cioè la compagnia telefonica che vi fornisce il server esegue un controllo sulla navigazione in internet sulla legalità della navigazione in internet se qualcosa non va risalgono alla persona e poi vanno a chiedere cosa succede in pratica quindi la connessione internet con password serve anche a proteggere l'identità di ognuno di noi cioè ognuno di noi è responsabile di ciò che avviene di ciò che viene digitato di ciò che viene cercato di ciò che viene fatto a partire dal proprio router quindi tutti quanti i router hanno la password in passato non era così ma adesso sì sono le compagnie telefoniche già a mettere la password perché altrimenti le persone non la mettevano e niente quindi questo diciamo è il primo pezzo di internet per cui tutti quanti avete una compagnia telefonica magari scoprite quale scoprite quanto pagate e scoprite la velocità di connessione questo possiamo farlo insieme se io apro internet posso misurare la velocità di connessione della mia linea se qui in google qui approfondiremo questo discorso scrivo speed test speed test viene fatto un test di velocità della mia linea ora io sto per farlo quando lo farò la connessione internet probabilmente rallenterà quindi se mi blocco per un attimo è dovuto a questa cosa qui eseguo il test quindi 28 30 in download i dati arrivano da me a una velocità di 28 25 megabit al secondo qui ragioneremo meglio e escono da me a una velocità di 19 megabit al secondo che è poco in questo momento è poco però questo è grazie alla mia linea telefonica server milano in questo caso io dicevo brescia ma perché effettivamente facevo riferimento alla mia linea fissa quella fisica via cavo mentre invece la telefonia cellulare il cellulare mi rimanda a un server di milano quindi se fate anche questo test vedete in quel momento lì perché può cambiare il server che vi sta che vi sta dicendo vi sta servendo in questo momento dov'è ok prima di chiudere il discorso di passare le domande l'ultimo discorso io il video che stiamo vedendo adesso la diretta come come funziona io la sto trasmettendo attraverso la mia linea telefonica al server di youtube scusate che a sua volta la sta rendendo pubblica e ritrasmettendo a tutte le persone che la richiedono quindi quando voi vi siete collegati col vostro computer e avete premuto da qualche parte il link per raggiungere la diretta vi siete collegati al server di youtube che in questo momento è in grado di ricevere e ritrasmettere la diretta che sto facendo io io dal canto mio mi sono collegato allo stesso server per mandare il flusso dei dati in uscita li sto mandando a questa velocità e sono disponibili a una velocità anche più alta la velocità con cui la ricevete è dovuta alla vostra linea telefonica la cosa in particolare è questa io sto mandando dati a 4 megabit se il mio computer non fosse in grado di mantenere 4 megabit costanti in uscita voi vedreste il video saltare perché non ce la fa a mantenere il flusso delle immagini questo magari è un discorso un po' particolare l'ultima cosa quindi abbiamo il computer siamo collegati a internet abbiamo la linea eccetera come vedo internet perché sono qui ma dove lo vedo per navigare in internet noi schiacciamo su queste icone qua questa cosa qui colorata la volpe oppure questo colorato edge qui questi sono i browser sono programmi che sono in grado di mostrarci internet è come se internet fosse il segnale tv che c'è ovunque ma se tu non hai la televisione da accendere non lo vedi quando sei in piazza in piazza del tuo paese lì il segnale televisivo c'è puoi guardare il telegiornale la telenovela preferita quello che è ma non hai il televisore e lo stesso discorso è il computer il segnale internet arriva il computer l'ha a disposizione ma ha bisogno di un browser di uno di questi programmi qui che servono a visualizzare fisicamente internet quindi questo è il punto di partenza del prossimo video si è aperto adesso nell'altra schermata serve a vedere internet se c'è ce lo mostra chiaramente se non c'è la connessione non si vede niente però se io non avessi il browser non potrei vedere internet va bene dai vediamo le vostre domande andiamo avanti con le vostre domande in seguito approfondiremo quindi come si usa un browser perché io posso navigare in internet e diciamo che posso riuscire più o meno bene il più o meno bene dipende da come io sono in grado di interagire con questo programma che mi si apre sempre dall'altra parte e dai vari bottoni che ci sono da come schiaccio da quante volte schiaccio da cosa ci scrivo dentro e da cosa servono tutti quanti i vari bottoni quindi è molto semplice di per sé lo sappiamo però può essere anche difficile perché certe volte non riusciamo a fare delle cose e non capiamo perché e certe volte come sempre nel computer siamo noi che non schiacciamo le cose giuste allora prendo il browser prendo il sito gli amici di Maggiolina che ho qui e rispondo alle vostre domande quindi torno indietro sulla chat a vedere le domande vediamo eccoci qua bene ne prendo ne prendo due prima che avevo visto prima della riga ancora allora forse tre anche vediamo faccio un giro un po' più indietro vediamo Michael dice buonasera Daniele una domanda sono un nuovo abbonato dal 5 gennaio ricevo le tue email di aggiornamenti ma quando provo ad entrare dice che il video è disponibile solo agli abbonati di livello più video allora Michael se tu guardi la chat in questo momento allora ragazzi mentre guardiamo il video adesso si vedono tutti i nomi tutte le persone che stanno scrivendo in diretta questa cosa si vede solo durante la diretta solo il mercoledì dalle 18 alle 19 fin tanto che noi siamo in diretta dopo non c'è più non si vede più perché per ragioni tecniche io la tolgo quindi le dirette sono tali solo in diretta e poi resta il video registrato usufruibile da tutti ma non si vedono più tutti i messaggi che sono arrivati nel frattempo accanto a ogni persona accanto a ogni nome e quindi a ciò che hanno scritto c'è l'icona che la rappresenta ma c'è una coccinella allora se qualcuno sta guardando la chat noi abbiamo un Michael e poi un cognome diciamo e non c'è nessuna coccinella il messaggio sotto è Franco che dice ok e ha una coccinella gialla quello è il simbolo dell'abbonato se ho quel simbolo vuol dire che sono abbonato vuol dire che posso vedere tutti i video della serie speciale abbonati quell'abbonamento è con youtube è un modo di sostenere noi quindi i soldi vanno a youtube e poi lui li gira a noi tolte le tasse e quant'altro e quindi il sostegno arriva a noi però lui mette in piedi tutta la piattaforma eccetera ed è lui che gestisce se io premo sotto i nostri video c'è scritto abbonati se premo lì ottengo tutte le informazioni del caso e se voglio mi abbono chi si abbona vede i video della serie speciale abbonati sono più di 200 adesso perché ne escono due alla settimana e quindi c'è la raccolta di tutti anche quelli passati questi abbonati abbonati e via dicendo anche gli altri abbonati abbonati tutte le settimane ce ne sono due quindi Michael se non te lo fa vedere perché dici non mi fa vedere il video è perché lui non ti riconosce come abbonato quindi per lui l'account Michael e poi c'è il tuo cognome non è abbonato non c'è la coccinella non sei abbonato cosa può voler dire questa cosa che non sei abbonato per qualche motivo non lo so pensi di essere abbonato invece non lo sei attenzione che abbonato vuol dire avere premuto il tasto aver seguito le istruzioni e pagare un canone mensile mentre invece iscritto è un altro discorso sotto al canale sotto a ogni video c'è scritto iscriviti se io premo su iscriviti e quindi mi iscrivo ricevo la notifica dei video do una preferenza al canale che per noi è molto importante quindi iscrivetevi se vi piacciono i nostri video ma è gratis non c'è niente di che cioè non c'è nulla di più del premo per dire iscriviti sono iscritto mi piace il canale tu sai che mi piace il canale quando esce un video nuovo vengo avvisato fine del discorso l'abbonamento invece c'è un canone mensile da pagare e a fronte di quello youtube offre i contenuti che noi mettiamo a disposizione e da sempre finora noi aggiungiamo dei video in più proprio per gli amici abbonati che ci sostengono in maniera importante per noi quindi o non sei abbonato per qualche motivo non hai compreso bene il discorso tra abbonati e iscritti è una cosa comunissima per tutti i canali oppure non lo so qualcosa non è andato a buon fine oppure ancora e questo capita tante potrebbe essere la situazione di questo genere quando tu sei in google e sei su youtube eccetera hai un account questo è il mio account in questo caso super rubino corso tablet5 chiocciola gmail.com ci sono persone che ne hanno più di uno anch'io ne ho più di uno se mi abbono a un canale youtube mi abbono con un account non è che voglio pagare tre volte la stessa cosa mi abbono ti sostengo grazie vedo i video degli abbonati e pago la quota una volta sola però magari io ho altri tre account questo account è quello che si è abbonato paga e vede i video gli altri account quindi gli altri nomi che io ho con le altre foto eccetera non vedono i video quindi se tu michael sei diciamo loggato sei in google con un account diverso rispetto a quello che ha pagato che sta pagando l'abbonamento comunque youtube non ti riconosce come persona che ha diritto a vedere i video e quindi non te lo fa vedere quindi questo è un caso che capita spessissimo ci sono persone che hanno più di un account magari anche con lo stesso nome ma fatti in momenti diversi devono semplicemente regolare qual è quello giusto in questo video allora guarda in questo video mandiamoci normalmente www.associazionemaggiolina.it il nostro sito ufficiale l'associazione Maggiolina vediamo qui abbonati spazio abbonati premo spazio abbonati qui c'è un video questo che dice come funzionano sito amici sito amici e abbonamenti questo video è visibile a tutti proprio perché così tutti quanti sono in grado di capire come funziona premendo qua michael ti guida questo video a capire com'è il discorso e come controllare eventualmente il discorso del tuo account se sei abbonato o non sei abbonato e come vedere eccetera però il caso sono due o non sei abbonato o sei abbonato ma non stai guardando i video con l'account giusto e quindi devi semplicemente cambiarlo e poi è a posto ci ho tenuto a fare questa cosa anche lunga perché è una cosa che mi chiedete in tanti e di solito risolviamo sempre così in una maniera o nell'altra capiamo il discorso nel caso di difficoltà ad entrare al sito amici di Maggiolina degli abbonati eccetera scrivetemi a info chiocciola associazione Maggiolina punto it nell'oggetto del messaggio scriveteci abbonamento sito amici problema abbonamento difficoltà sito amici in modo che salti subito all'occhio perché diamo la precedenza a queste cose se c'è un qualche malfunzionamento dobbiamo cercare di risolvere e quindi cerchiamo di rispondervi subito e ricevendo tantissimi messaggi se non c'è il diciamo l'oggetto giusto magari finisce che vi rispondiamo in ritardo perché prima ci sono tutte le altre email da leggere quindi quelle hanno la precedenza attenzione a scrivere bene l'oggetto e cerchiamo di risolvere con l'abbonamento però la gestione è totalmente di youtube quindi si fa con youtube e noi siamo solo spettatori ma se ci scrivete vi diamo una mano cercare di capire com'è questo com'è l'altro cosa posso fare eccetera per venire a capo di questa situazione ok poi andiamo avanti sono contento di essere andato indietro a leggere la domanda di Michael così anche lui può capire come funziona Vilt mi dice bns mi fa sempre sorridere Vilt mi devo accendere il cervello per interpretare il tuo buonasera grazie mi piace questa cosa buonasera Daniele a tutti allora eliminare pubblicità da cellulare ho letto l'articolo su una qualche una qualche rivista e dice dns privato sembra facile per favore un consiglio grazie un saluto allora il dns è una cosa attinente a internet per il cellulare vale per il computer eccetera il discorso è questo quando noi navighiamo in internet quindi come adesso e digitiamo un indirizzo intanto vedo una super chat vado a ringraziarlo subito perché altrimenti poi magari mi sbaglio grazie infinite silvio grazie 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 infinite allora il dns il server dns è un computer che traduce quello che io scrivo www.associazionemaggiolina.it che in questo caso è l'indirizzo internet di destinazione cioè il sito internet che voglio vedere questo nome scritto così porta il mio computer la mia connessione sul server del mondo internet giusto da qualche parte c'è questo server uno solo al mondo che contiene associazionemaggiolina.it e questo indirizzo tac lo porta là e io vedo le cose se sbaglio questo non arrivo a destinazione non vedo niente o vedo qualcosa di diverso semplicemente perché ho sbagliato quello però questo indirizzo che io leggo proprio bene associazionemaggiolina.it non è così è un codice numerico solo che noi lo vediamo per iscritto noi abbiamo un nome da leggere associazionemaggiolina.it ma i server i computer poi non si dicono associazionemaggiolina si dicono una serie di numeri 128 più 145 più 911 eccetera neanche perché alcuni li ho detti sbagliati comunque un indirizzo il server DNS è un computer il vostro computer che non il vostro computer un computer del mondo internet che legge l'indirizzo e lo traduce in numeri lo traduce in numeri e poi andate a finire sul computer giusto quindi il vostro provider la vostra compagnia telefonica vi mette a disposizione questo server per poter navigare in internet ok e quindi ci siamo è possibile cambiare il server dire no senti computer qua non mi piace questo server DNS voglio andare da un altro perché potrei volerlo cambiare perché magari quello della mia compagnia telefonica è un po' lento un po' lento ma lo cambio perché magari un altro è più più veloce fa prima ma anche perché magari quello della mia compagnia telefonica potrebbe censurarmi potrebbe non mostrarmi certi siti vi faccio un esempio su tutti i casino online sono dei siti internet dove tu giochi online eccetera solo che c'è da pagare una tassa allo stato italiano eccetera eccetera adesso la facciamo proprio così a grandi linee non so esattamente come funziona ma il concetto è quello e quindi per avere un casino devi pagare le tasse e tutto quanto se però tu giochi a un casino a burro bondi in qualche stato sconosciuto tu giochi online non ci vai giochi online e quelle le tasse e quelle le tasse allo stato italiano non le paga diciamolo così prendetela così magari dico cose sbagliate non voglio non voglio fare pasticci ma il concetto è quello allora il server DNS ha ordine di non mostrartelo se tu digiti l'indirizzo quello che è perché in qualche maniera l'hai saputo per andare in quel casino là te non lo vedi non esiste ti dice guarda che non esiste perché è censurato tra virgolette ed è considerato non regolare e te lì non ci vai in certi paesi del mondo dove diciamo l'informazione è controllata non escono da un circuito preimpostato da loro non voglio dire parole che non vanno bene non esce da una certa cosa preimpostata perché il server DNS non gli fa andare fuori quindi ci sono persone che dicono vabbè ma senti io cambio il server DNS così navigo dove ne ho voglia io dopo starò io a sapere se posso farlo o se non posso farlo responsabilità mia però almeno vedo quello che c'è oltre a quella che magari può essere una censura del server DNS quindi questo può essere un motivo e Viltia mi dice guarda per evitare la pubblicità io potrei utilizzare dei server DNS diversi che ho trovato su una rivista eccetera allora nel momento in cui usciamo dal nostro server DNS dobbiamo sapere bene cosa facciamo dove andiamo a finire perché la nostra esperienza di navigazione cambia in meglio o in peggio certo un server DNS si può cambiare tutte le volte che voglio quindi non c'è nessun problema di solito prendiamone di giusti non strani che mi hanno sottrofugi cose strane perché insomma facciamo attenzione a quello che che andiamo a vedere allora voglio andare sul sito amici di Maggiolina e scrivere DNS perché tanto tempo fa ne abbiamo parlato in un video DNS il sito amici di Maggiolina cerca anche tutti i nostri video eccolo qua perché cambiare DNS ne abbiamo parlato tanto tempo fa ma vale sempre il discorso a livello di concetto poi magari diciamo operativamente si fa in un modo oppure in un altro e quindi diamo un'occhiata se volete approfondire il discorso del DNS allora poi ci sto impiegando tanto a rispondere alle domande ma sono domande particolarmente interessanti in questo caso legate al mondo internet quindi ci tenevo a spiegarmi bene Mario dice allora ho OneDrive disattivato ma se vado in app di avvio non trovo nella lista Microsoft OneDrive e quindi non posso riattivarlo Mario presumo che tu abbia visto questo video se non lo hai visto dagli un'occhiata quello della settimana scorsa di giovedì scorso in cui abbiamo fatto questo gli esperimenti con la nuvola in cui abbiamo fatto tutta questa cosa di OneDrive attiva disattiva eccetera eccetera e quindi non so darti una mano precisa senza vedere la situazione prova a guardare il video e vedi se trovi la soluzione diversamente se proprio non lo trovi vai qui nel menu di avvio adesso io ho Windows 11 quindi sarà un po' diverso in tutte le app a cercare OneDrive dov'è? a cercare OneDrive se c'è bene se non c'è bisogna installarlo allora OneDrive vediamo se ce l'ho io qua Microsoft OneDrive sarà alla M o sarà semplicemente alla O scrivo qui così magari lo trovo OneDrive si chiama OneDrive quindi tutto attaccato e ce lo devi avere da qui se tu ci premi anche se Windows 10 lo trovi uguale ci premi lui te lo attiva e dopo dovrebbe rimanere attivato se non c'è strano che non ci sia perché in Windows c'è sempre andrei a cercarlo qui nel Microsoft Store andrei sul Microsoft Store scriverei OneDrive e poi lo installerei però strano che non ci sia diciamo che ti do un po' un suggerimento così alla cieca quindi fai conto che potrebbe anche essere sbagliato perché non posso vedere quindi non so la situazione se ti va scrivimi a info chioccio l'associazione maggiolina.it per dirmi come è andata come hai risolto così io lo so per il futuro Giovanna ciao Giovanna buonasera a tutti ciao a te poi Alex dice sera Daniele che ne pensi del Raspberry e i giochi Arcade eccetera ci sono tanti fissati fanno dei dei bei cabinet eccetera eccetera non lo conosco nel senso che per sentito dire so che c'è so che sembra bello e tutto quanto ma sono totalmente fuori da quel mondo lì non sono in grado di dare proprio nessuna né suggerimento né giudizio niente perché non non ne so niente ciao Roberto buonasera a te ciao LS ciao ciao Giorgio è bello saludos da da Lanzarote è bello mi piace sapere che arriviamo lontano anche come voce ciao Sergio dice Daniele cosa pensi cosa pensi di farsi un pc assemblato allora Sergio farsi un pc assemblato lo si fa per due motivi principali la soddisfazione personale di essersi fatti un pc assemblato e mi manca ma prima o poi la faremo magari tutti quanti insieme qua sul canale se volete se vorrete seguirmi quindi ho la soddisfazione di dire questo computer l'ho fatto io e l'altra è quella di aver scelto i componenti giusti diceva mi sono fatto un computer perché l'ho fatto proprio come volevo io o super potente o super economico o una via di mezzo oppure sono un artista è perfetto tecnicamente è difficile tecnicamente è difficile mettere insieme parti perfettamente compatibili e perfettamente funzionanti tra loro perché magari scegliere questa quella 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 sì le compro le metto insieme ok ma magari ce ne sono due che non funzionano poi cioè che si incastra e va tutto bene ma poi non funziona bene e non funziona bene e chi lo fa da dieci anni sa che quei due lì insieme non lavorano e quindi ci vuole anche esperienza per cui così come prima esperienza secondo me è difficile fare un bel lavoro è fattibile quindi lo farei io quando lo farò lo farò con un computer medio economico così per il gusto di farlo se voglio un computer di super prestazioni piuttosto me lo faccio assemblare da un negozio perché la parte di assemblaggio cioè mettere insieme i pezzi è praticamente irrisoria da un punto di vista costi però lo faccio fare da chi ha un'esperienza di assemblaggio di computer diciamo certificata nel tempo e quindi sa che certe cose quando io gli dico voglio quel pezzo lì quel pezzo là quello lì lui mi dice ma no non puoi mettere questo se metti questo devi mettere anche quell'altro perché l'ha visto sul campo però sicuramente è un esercizio che mi piacerà fare e che può valere la pena poi a forza di farlo diventi anche super bravo tecnicamente non è difficile nel senso che mettere insieme i pezzi l'importante è che tu ti ricordi di attaccare la spina dopo quando hai finito quando non hai le mani dentro sei a posto quindi non male se per quei motivi lì se è per risparmiare o se per farlo super veloce devi avere le capacità in sostanza Pietro ho un pc molto vecchio e vorrei acquistarne uno nuovo un i9 32 ssd 500 1 tera va più 1 tera byte windows 11 mi consigli di aspettare settembre quando i pc windows 10 sono esauriti o posso cercarlo anche ora no puoi cercarlo anche ora a me è capitato con un portatile mi avete già sentito di consigliare qualcuno e ci sono anche adesso quindi tu puoi tranquillamente cercarlo anche adesso tenendo conto però di prenderti un windows 11 il rischio di adesso è di prendere un windows 10 perché ce l'hanno perché va bene ma che questa è super tecnologia che però è vecchio e lo paghi come come un super computer a settembre ottobre dicembre dell'anno prossimo eccetera quando saranno esauriti i costi saranno quelli solo che avrai quello nuovo ma tu lo puoi comprare anche adesso l'importante è che tu quando sei lì ti dica bello ma io voglio windows 11 oppure bello windows 10 però dai non farmelo pagare come un windows 11 come nuovo è nuovo d'accordo ma insomma teniamo conto che è tecnologia già un po' passata perché windows 11 poi sarà lui se io lo prendo adesso il 10 tra tre mesi mi trovo un computer che mi dico caspita però era meglio se prendevo windows 11 solo quello secondo me quindi si può comprare oggi ma cercando windows 11 secondo me perché poi ognuno fa i suoi ragionamenti Francesca ciao Francesca dice ciao no non ciao ci sono ciao Daniele buonasera a tutti ciao Francesca ciao Anto Valentina dice ho messo windows 11 su un pc vecchio ma arresti anormali che posso fare? togliere windows 11 e goderti il computer col windows che aveva prima hai già ammetti tu che è un pc vecchio e quindi è così insomma è come le automobili vabbè cambio motore però se non è il suo non è detto che vada bene quasi mai funziona bene soprattutto se è vecchio cioè ci sono computer che possono essere portati a windows 11 senza problemi ma sono certificati nel senso che te lo dice e via se dopo il passaggio non funziona bene devi tornare indietro secondo me poi saluto Lucia poi saluto Giulio e Claudia dopodiché saluto Maurizio che dice come funzionano le finestrine che arrivano dalla destra immagino che siano queste qui in basso a destra adesso io non ne ho neanche una queste sono le notifiche se sono quelle perché dipende adesso qua io le ho guardate prima di entrare in diretta di solito sono notifiche sono avvisi ti dicono di un qualcosa e generalmente tu premi le vedi c'è un avviso una cosa in forma abbreviata che ti dice guarda che c'è questa cosa qui se a te interessa perché dici meglio che approfondisco ci premi sopra e quindi vieni portato in un'altra parte del computer dove vedi la situazione se invece dici ma no sta roba qui me la dici tutte le volte lo so non sta a preoccuparti e l'antivirus ha controllato il mio computer tutto a posto perfetto se è una X chiudi e fine così poi puoi scegliere se mostrartele non mostrartele se fartele mostrare non fartele mostrare eccetera ci sono le varie impostazioni ma direi intanto così come discorso poi vediamo che cos'altro si dice allora Komazawa ciao Komazawa ciao Laura Yolando dice ciao Todiano quindi Todiana quindi sta parlando con Todiana ciao Salvatore grazie per il suggerimento molto utile grazie a te Salvatore vedo che sei abbonato grazie infinite ciao Anna Valentina dice poi volevo chiederti come posso vedere DVD blu blu ray su un vecchio pc se non hai lettore blu ray non li può vedere la parola vecchio pc ti fa capire che certe cose non le può fare in sostanza e quindi non si può almeno questo è quello che viene in mente a me potresti collegare un lettore blu ray al pc via usb cioè volendo una soluzione si trova si trova sempre ma potrebbe non essere a costo zero in sostanza però il vecchio pc di solito pone tanti limiti nel senso che fa quello che poteva fare allora ma siamo andati avanti quindi certe cose fa fatica o non le fa Salvatore buonasera Daniele buonasera a tutti i ragazzi grazie ciao Salvatore Alex dice Alex Daniele che ne pensi a del raspberry ok abbiamo già visto si vede che riproponi la domanda che ore sono ok ancora un paio di minuti Paolo domanda per motivi tecnici ti sto seguendo da due pc è normale che da uno vedo la chat e nell'altro no no non è normale dipende dalle regolazioni del browser del pc dove non vedi a volte magari stai vedendo troppo in grande a volte la chat è nascosta ci sono tante situazioni ma si può vedere da tutte e due le parti senza senza vedere fisicamente non so darti l'indicazione giusta per il discorso della chat anche perché io spesso sono da questa parte e non da quella diciamo della chat che la mia visualizzazione è diversa quando seguo le dirette di solito le seguo dal cellulare quindi non ho la situazione pratica sul computer però non è normale puoi regolare affinché salti fuori perché la chat si può anche nascondere ad esempio io quando guardo una diretta sul cellulare di solito guardo la diretta e la chat non la considero insomma però dipende appunto da chi guarda e quindi si può scegliere dunque poi Giuseppe dice ciao Daniele come posso scrivere con il pc su un foglio già scritto grazie con un programma di videoscrittura se parliamo di un foglio di carta vero già scritto e tu ci vuoi scrivere dentro magari trovare gli spazi giusti si può fare devi chiaramente infilarlo nella stampante del verso giusto perché ci stampi giusto e poi devi trovare gli spazi giusti con un programma di videoscrittura e scrivere negli spazi giusti si può fare non è facile tante volte fai prima ricopiare e scrivere tutto che non a scrivere solo negli spazi giusti però si fa tipo devo compilare un blocco ricevute eccetera si fa diciamo che a computer risulta più facile stampare tutto io mi ricordo in passato anni 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 fa dovevo stampare avevo un blocco fiscale di ricevute per un lavoro che facevo e serviva stampato fiscale eccetera e poi bisognava scriverci dentro allora ho detto no senti il blocco fiscale ha solo la carta intestata solo nome cognome partita IVA quelle cose lì il numero del fiscale del modello fiscale e poi è bianco il resto le colonne le diciture eccetera ce le stampa il computer quando stampa la fattura quando stampa la ricevuta quello che è e a computer col programma di videoscrittura avevo fatto stampare il contenuto della fattura ma anche tutte le righe perché così stampava sempre perfetto e però si può fare ma è fatica se cambi stampante c'è da rifare tutto perché la stampante nuova magari stampa un po' più a destra un po' più a sinistra e quindi un pasticcio poi vediamo come siamo siamo con Giuseppe no Lino ciao Lino ciao Dennis e l'ultima Antonio l'ultima nel senso che poi sono le sette Antonio dice mercoledì scorso finite la diretta ho avuto la bella sorpresa di trovarmi Windows 11 da installare l'ho fatto ed è tutto ok ho provato anche stasera a mandare una super chat ma mi ha ancora chiuso Antonio non è una questione di Windows 10 Windows 11 sicuramente è una questione di operatività nel senso di come ci lavori di cosa schiacci eccetera eccetera però non so darti una risposta senza vedere già non sono esperto di super chat perché le ricevo invece che farle però magari ce lo dicevamo anche l'altra volta magari in uno dei prossimi video proviamo a farla così per aiutare per aiutare gli amici va bene allora ho copiato la chat la salvo in una nuova pagina del blocco note quindi le domande rimanenti eccole qua io le salvo file salva con nome le metto sul desktop eccezionalmente perché così le vedo lì e so che devo rispondere chat 2 febbraio e poi sabato nel video di sabato uscirà eccola qua stavo guardando se era arrivato prima di chiudere uscirà il video in cui rispondo alle chat bene ragazzi grazie della compagnia che mi avete fatto non mi stanco mai di dirlo è un privilegio avervi in diretta tutti i mercoledì è bello mai da tanti anni ma è proprio veramente un privilegio che voglio sottolineare sempre ringrazio gli amici che hanno fatto le super chat i super stick gli abbonamenti i tanti amici che ci sostengono anche attraverso altri canali per noi molto molto importanti qualcuno non riusciamo neanche a ringraziarlo perché poi non abbiamo il recapito grazie ragazzi perché tenete in piedi tutto quanto il discorso per noi è importantissimo grazie per i mi piace tanti fate ancora in tempo a metterne qualcuno se vi è scappato ancora non l'avete fatto grazie per le iscrizioni al canale che è bello sapere che siete in tanti a seguirci ci vediamo in diretta mercoledì prossimo domani con i video degli abbonati venerdì con un altro video sabato con un altro video sapete che tranne i festivi tranne la domenica c'è sempre qualcosa da guardare sul nostro canale ci vediamo presto ragazzi sto andando nella schermata per salutarvi eccomi qua e siamo a posto ciao buona serata buona serata ciao 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 ciao